Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video report OCG e andiamo a vedere che mazzi ci saranno visto che comunque credo che c'è un mazzino che forse qualcuno qualche amante dell'archetipo, non me che lo sia molto soddisfatto di vedere, dovremo andare a vedere prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi invito a scrivere il nostro canale prima di essere sempre aggiornati, l'iscrizione ci ha venuto tantissimo e vi ringrazio per questo, detto questo appunto andiamo a vedere allora c'è una varietà incredibile di Fire King Snake Eye quindi abbiamo Fire King Snake Eye primo posto lista ormai classica perché ormai la lista è questa e vediamo come gli altri comunque vanno a modificarla che questo gioca meno in permanence gioca più droplet gioca anche la terreno questo gioca la terreno questo non gioca la terreno, gioca proprio la lista classica va a modificare un po' l'extra deck se hai il side deck e anche l'extra perché qui ci sono per nulla mostri sincro qui invece gioca anche di barone formula la formula sincro mi pare e il savage quindi cambia molto rispetto alle liste classiche perché di solito appunto diciamo l'extra deck va a tutti i link e il solo i Xyz però questo qui è più Snake Eye normale perché c'è anche Fire King è Snake Eye normale questo questo è Snake Eye normale perché io ho pensato fosse Fire King non ci sono le carte Fire King va bene va bene poi questo è Fire King ovviamente giustamente ci sono tutte le carte link e l'extra deck grazie al cazzo che poi non c'è l'extra deck non ci sono le carte Fire King grazie bravo bravissimo mi confermo di essere un grande fruitore di vedute è comunque l'altro Fire King Snake Eye questo si è Fire King Snake Eye si va in permanenza è sempre solo HT il ratio ormai delle carte Fire King è quello lì più o meno tre Kirin è uno per degli altri troppo è l'uno per degli altri ok e poi abbiamo Labyrinth Labyrinth che secondo me anche qui comunque può fare può fare il suo gioco con Rescue Ace Decide non mi ricordo più perché mettevano Rescue Ace Decide c'era un motivo c'era un motivo ma non me lo ricordo più sfortunatamente per me e per voi comunque la mia classe nel fare video sempre informato non è già me allora vabbè tutti i Fire King Snake Eye che cacchio è va bene le liste magari cambiano di un minimo cambiano di un minimo anche se cambiano di un minimo però io neanche mi accorgo di che cosa viene tolto quasi capito cioè sembra quasi che non cambi niente questo gioca un po' doppio Ponix non gioca tutto in uno per questo immagino che giochi tutto in uno per come al solito Max C Ash Vailer ok questo ha molte più mancettrappole rispetto a questo qui la Sai Phantasmagos belle rilascio delle anime sempre giocato antispel e va bene questo questo non gioca il Vailer gioca molto più mancettrappole gioca anche questa che manda il mostro non da una mancettrappola ok questo arriva terzo ha provato a fare un qualcosino di diverso non ci sta ci sta perché alla fin fine i mazzi sono uguali però insomma poi qui abbiamo il Branded Branded che con una sola Branded Fusion però fa fa quanto pare fa abbiamo Nadir come sempre per avere un engine un po' più corposo diciamo anche perché poi ti mandi comunque lui al cimitero comunque quello che ti serve al cimitero e ti prendi la roba che ti serve Max ci comunque aiuta un po' il mazzo triplo Albion che io lo vedo pesantissimo però avrà un suo perché anche perché è arrivato primo quindi il suo perché ce l'avrà ad Espion ok pure lui che non è per nulla male come carta pure il Borelod quello là dei dei Rocket mi pare ok può essere una lista interessante potrebbe essere una lista interessante allora noi prendete non è mai stato toccato praticamente quindi è che da noi sopravvive questo è stato stroncato subito poi Sky Striker Sky Striker è interessante con lei che comunque si evoca specialmente scartando una magia ci evoca lei dal dal mazzo quindi ci permette di avere un plus più migliore abbiamo la Camellia che pure lei è una carta abbastanza interessante abbiamo il Link qual è questo qui nuovo e quando picchia abbiamo loro due al cimitero spacca tutti i mosti dell'oppo fa anche danni di gate quando entra può essere interessante ecco dicevo Sky Striker può essere quel mazzo che molti vanno a diciamo è bello c'è Sky Striker quello lì lui penso siano dei supporti nuovi da main più interessanti perché quelli che abbiamo visto vanno anche a togliere tutte le carte di magia al cimitero ed è molto brutto il fatto che tolgano le carte di magia al cimitero quindi al massimo lui almeno si evoca specialmente ci fa prendere lei dal mazzo può essere una soluzione più interessante e poi Natura Runic anche qui con una sola fontana comunque Runic è Runic questo è un X-Dun è comunque un mazzo che se la spigne tranquillamente fa le sue cose il triplo alberello comunque è forte è molto forte insomma poi la dura con il fatto che ti nega un botto di roba diventa molto molto pesante da affrontare cioè un ban più negate più loro che fanno un sacco di robe diventa molto pesante da affrontare poi abbiamo un Senturion Senturion che dopo il ban di Calamity l'ha sostituito con Red Supernova che comunque è molto buono perché va a bandire il terreno dell'oppo che diciamo lui magari era più forte perché comunque l'oppo non giocava da terreno però questo glielo toglie quindi diciamo che comunque come soluzione può essere interessante e poi per concludere abbiamo lo Sprite 3 Brigade che gioca con un rato di carte magia bassissima però comunque potrebbe fare il suo ha il suo perché anche se c'ha tipo 28 Entrap c'è 2 ma potrebbero essere anche 3 Droll 2 Ghost 3 D D Croc credo sia Max C questo qui Ash Nibiru e poi vabbè i Nimble che servono per Sprite e qui abbiamo tutto il reparto 3 Brigade può essere può essere una soluzione interessante fa comunque un primo post interessante e vediamo ovviamente questi credo che non siano tornei di altissima diciamo come dire forza tra virgolette perché comunque ci hanno pochi partecipanti si 36 si diciamo non sono tantissimi però insomma comunque servono sempre per vedere che cosa può accadere qui c'è anche la cosa dell'arcworld in realtà mi pare il bando del cimitero può essere interessante come cosa trappolina fortissima trappolina fortissima che comunque vedremo nei prossimi video in base a quando mi metto questo insomma comunque i mazzi sono questi qui più o meno si conferma Fire King Snake Eye il più forte Rescue Ace sparisce un pochino fa ha fatto qualcosina però sparisce un pochino la print continua ad essere uno dei migliori comunque Sky Striker credo che sia soltanto un momento diciamo che non penso lo vedremo spesso nel meta però non si sa non sappiamo detto questo ragazzi fatemi sapere cosa ho pensato ovviamente noi come sempre ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti di Grazie.